Allora, Rossano Vinciarelli, membro dell'Equipe Eccellenze Italiane, che è l'albo d'oro della Federazione Italiana Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria, definito da molti colleghi la mano più raffinata d'Italia, un tecnico e un maestro dello zucchero artistico e del pastigliaggio. Rossano, cosa hai presentato oggi insieme alla Federazione? Ho fatto questa PS con questo lampione come una volta, però l'ho messo in un contesto un po' moderno, con questa struttura un po' moderna e ho combinato tutte e due le cose insieme. Quindi diciamo diverse tecniche tra il retro e il design, quali sono le caratteristiche, diciamo le tecniche utilizzate in questo caso, perché vedo che c'è del pastigliaggio nero, però è lucido e del pastigliaggio bianco un po' opacizzato? Allora, lucidando il pastigliaggio basta bagnarlo con un po' di acqua e diventa subito luce, prendo umidità lo zucchero e diventa lucente. Poi ho usato tre tipi di pastigliaggio, giapponese, colato e pastigliaggio da strutture, quello classico. Ci spieghi quali sono le tecniche e il tema della tua opera? Allora, le tecniche utilizzate è zuccheriso malto, cotta a 180 gradi, poi viene colato nelle forme in PVC, ovviamente in base a quello che si vuole realizzare. Il tema è acrobat ed equilibristi, tema che ho portato al campionato. Quindi diciamo che è un'opera che richiede molta attenzione e diverse tecniche. Se possiamo inquadriamo anche il dettaglio della ruota, questo è zucchero pastigliaggio. Vedo che ci sono anche delle applicazioni che stai preparando in zucchero pastigliaggio. Cos'è lo zucchero pastigliaggio e che differenza c'è tra lo zucchero colato e lo zucchero pastigliaggio? Allora, lo zucchero pastigliaggio è un impasto di zucchero a velo, cola di pesce, acqua e succo di limone o aceto. Viene impastato con una semplice pasta, poi vengono ritagliati i pezzi e vengono fatti essiccare per due o tre giorni all'incirca. Poi vengono assemblati, sempre con dello zucchero risomalto. La differenza è che lo zucchero risomalto è lucido, brillante, madreperlato. Invece il pastigliaggio ha un colore molto più opaco, quindi è molto più opacizzato. E serve a dare questo contrasto all'EPS. Bene, grazie mille Roberto. Grazie a voi.